Davide Rossi Davide Rossi, il figlio di Vasco, età, altezza, lavoro e vita privata Davide Rossi, il primo dei tre figli di Vasco, età, altezza e professione Davide Rossi ha 31 anni 24 aprile 1986, ed è il figlio del noto cantautore Vasco. E' un attore italiano, alto 175 cm, che ha esordito nel mondo dello spettacolo sul piccolo e sul grande schermo L'abbiamo visto recitare in miniserie come Provaci e ancora Prof 2. Ma è al cinema che Davide fa le sue prime comparse In questo caso ricordiamo le pellicole, scusa ma ti chiamo amore, il posto dell'anima è sopra e sotto il ponte. Attraverso quest'ultimo film è arrivato a conquistare il premio Enel nell'anno 2006 al Busto Arsizio Festival E' il più grande dei tre figli di Vasco Rossi e tra loro è sicuramente quello che gli somiglia di più. Infatti, Davide ha quell'aria da bello e dannato proprio come suo padre E' proprio questo suo aspetto da ribelle che l'ha portato ad avere un certo successo nel mondo del cinema e della televisione. Ma non solo, il primo genito di Vasco è molto richiesto anche come di Ilunga Da dieci anni scrive canzoni per Valerio Scanu e fino ad ora ne ha firmate quattro. Si tratta, però, di un progetto in cui ha deciso di non coinvolgere suo padre Davide Rossi vita privata, il rapporto con Vasco e con suo figlio Romeo. Nell'anno 2014 Davide Rossi è diventato papà mettendo al mondo, insieme alla compagna Alessia, Romeo In questo caso l'attore ricorda il momento in cui ha rivelato a Vasco l'arrivo del bambino, disse che era arrivato il momento di prendersi le responsabilità. Lì per lì avrei preferito un abbraccio Poi, quando sono diventato padre anch'io, ho capito cosa intendeva. Davide ammette di avere un bel rapporto con il suo bambino, io con mio figlio sono molto presente, ci gioco, lo cambio, lo porto al parco. Non ho mai pensato che queste cose mi fossero mancate, ma ora sento di doverle a Romeo, e anche a me. Davide e Vasco hanno sempre avuto un legame molto forte, nonostante il cantautore abbia avuto poi altri figli, lui c'è sempre stato, e non solo per telefono. Davide e Vasco Davide e Vasco è una cornice d'argento, me la diede per metterci una foto di Romeo. E infatti ci sono io che suono il piano con il piccolo sulle spalle. Quando la vedo penso che racchiuda tutto, mio padre, me e mio figlio.